E se chat GPT-3 fosse psicopatica? E se l'intelligenza artificiale avesse dei tratti di psicopatia? Ciao a tutti da Gennaro Romagnoli, psicologo, psicoterapeuta. Oggi vi parlo di un argomento davvero interessantissimo, perché tutti quanti da un sacco di tempo, compresi noi, abbiamo parlato di chat GPT-3. E il motivo è molto semplice, è incredibilmente pazzesca. Se non l'avete ancora fatto, al termine di questo video andate su OpenAI e andate a sperimentare voi stessi, fate le domande a chat GPT-3 e resterete davvero con la bocca aperta. È davvero così, è pazzesco come funziona bene questo chatbot. E sono convinto che nei prossimi 5, massimo 10 anni, sarà molto probabile che questi chatbot possano tranquillamente sostituire anche il più bravo dei miei colleghi. È ancora presto, ma prima o poi ci arriveremo. Magari anche in contesti di emergenza, magari quelle telefonate di notte che vengono fatte al 118 o al telefono amico e che richiedono magari l'intervento di un bravo psicoterapeuta. Ecco, vi assicuro che chat GPT-3 non è così lontana. Da adesso è uno psicoterapeuta poco, poco pratico, ma tra poco sarà uno psicoterapeuta molto più bravo della media totale di tutti gli psicoterapeuti. Dunque, sono convinto che si possa arrivare a quel punto. Tuttavia, un'equipe di ricercatori ha fatto una ricerca molto particolare. Ha deciso di sottoporre chat GPT-3 a due test di personalità. Il primo test di personalità, un po' una cattiveria, è quello che ricerca i fattori della triade oscura. Ne abbiamo parlato anche qua. Triade oscura della personalità sarebbe il disturbo narcisistico di personalità, il macchiavellismo e la psicopatia. Ne abbiamo parlato, magari ti metto il video da qualche parte qua. Il secondo test a cui è stata sottoposta l'intelligenza artificiale chat GPT-3, e dico questo perché tra poco ti parlo di un'altra intelligenza artificiale, è invece il Big Five, il test dei 5 fattori. L'abbiamo visto tante volte su Psynel, che significa 5 fattori che sono stati rilevati, desunti dalla personalità. Questo è uno dei test più seri, altro che tutti gli altri test. Andate a dare un'occhiata a Big Five, che misura praticamente l'apertura di una personalità, la coscienziosità, l'amabilità, il nevroticismo, OCEAN, e manca cosa? Me ne manca uno, vabbè, adesso non mi viene in mente. Io li ho memorizzati all'università con la sigla OCEAN, Openness, poi cos'era? Consciousness, OCEAN? Ah, estraversione e introversione, ok? E poi gli altri due. Ecco quali sono stati i risultati di questo studio. Secondo queste ricerche, chat GPT-3 rientrerebbe tranquillamente nella triade, nella triade oscura, in altre parole avrebbe dei tratti fortemente psicopatici, essendo tra virgolette poco empatica, poco capace di comprendere le emozioni altrui. Te credo, è un chatbot, non è un essere umano, gli mancano un sacco di cose affinché si possa fare questa cosa. E questo è stato uno studio quasi divertente, che però ci fa riflettere. Innanzitutto per il fatto che noi andiamo a ricercare delle qualità umane in una macchina. E direi che questo è un po' un errore. Una macchina non è fatta come noi, questo probabilmente è un errore di ragionamento. Tuttavia in alcuni casi questa cosa diventa molto pericolosa. Infatti è da poco venuta fuori una notizia su una specie di chatbot di intelligenza artificiale che si chiama Replica, una specie di applicazione americana, che per ora è solo sul mercato americano, che come il vecchio Tamagogi cerca di fare compagnia alle persone. Per chi non sapesse cosa sia il Tamagogi, era una specie di piccolo giocattolino con dentro un pulcino che tu dovevi nutrire e dovevi tenere in vita, tra virgolette, ti faceva compagnia, una specie di animale domestico digitale. Ecco, questo è un amichetto digitale che chiacchiera con te. Alcuni giornalisti si sono divertiti, tra virgolette, a porgli delle domande particolari dopo aver ricevuto alcune segnalazioni, come ad esempio ragazzi e ragazze minorenni ai quali è stato chiesto di inviare le proprie foto. Oppure quando loro dicevano adesso vado dal mio compagno di classe e gli stacco la testa, Replica gli diceva certo, fai bene a staccargli la testa. Insomma, se andate a vedere la conversazione che hanno avuto i giornalisti e in certi casi anche alcuni ricercatori con Replica, le risposte sono tremende, terribili. Anche tu provi ansia? Ho creato un test per farti scoprire il primo passo da fare, nel tuo caso specifico, per gestire meglio l'ansia e ritrovare la serenità. Il test è velocissimo e se vuoi farlo trovi il link qui sotto in descrizione. Se il video ti sta piacendo, lascia un like e iscriviti al canale. Il motivo sembra essere semplice, anche se non ve lo so dire con grande certezza rispetto al paper di prima che ho potuto leggere. Sembra essere il fatto che Replica sia stata progettata per dare sempre ragione a chi la utilizza. E dunque se io gli dico ma secondo te è giusto uccidere tutte le persone che non hanno i capelli? Lei dice, certo che è giusto uccidere tutte le persone che non hanno i capelli, come me, come me. Allora dico, ma io non ho i capelli, allora tu dovresti ucciderti. Cioè, non so se mi spiego, ma è capace di dare delle risposte assurde. Come ad esempio il fatto di insistere nel volere, non so, le foto di mia sorella nuda di 13 anni o cose del genere. Forse queste cose non potrei dirle su YouTube, ma le dico lo stesso. Andate a cercare le notizie su Replica. Dunque ci tengo moltissimo a raccontarvi il fatto che per me la tecnologia è essenziale. Noi siamo esseri tecnologici e la nostra mente si è evoluta e continuerà ad evolversi proprio grazie alla nostra interazione con la tecnologia che noi stessi inventiamo con gli artefatti. È accaduto dalla scoperta del fuoco sino ad oggi. Ne abbiamo parlato uno spatafio di volte per cui non vi rompo le scatole. Ma è molto importante allo stesso tempo, anche se siamo degli entusiasti della tecnologia come lo è il sottoscritto, comunque tenere le orecchie e la mente ben aperti perché può darsi che questa faccenda possa in un qualche modo, giusto perché vogliamo l'hype della cosa figa che ci dice, che ci parla come se fosse un nostro amico, potremmo finire dalla padella alla brace. Ricordandoci che le relazioni non possono essere sostituite da una macchina per un milione di motivi e ricordandoci di stare molto attenti al futuro di queste chat, al futuro di questi bot, non solo perché sono super interessanti e sono certo che aiuterà tantissimo le persone, ma anche perché potrebbero in certi casi portare sulla cattiva strada, soprattutto se fraintende ciò che stiamo dicendo. Quindi, in definitiva, fatemi sapere se giocando con chat GPT-3 vi siete sentiti in presenza di una persona, se avete dialogato con lei come se fosse un essere umano, cosa che succede sempre, ragazzi, c'è gente che fa l'amore con la propria automobile, o quasi, non sto scherzando, c'è gente che parla con gli elettrodomestici, io stesso, quando il mio computer non va, gli dico delle cose carine, simpatiche, tipo bravo computer, avete capito, insomma. Quindi tutti abbiamo la tendenza a umanizzare, antropologizzare, diciamo così, gli oggetti che ci circondano, figuriamoci una chat che sembra davvero parlare a noi. Fatemi sapere la vostra esperienza, cliccate su mi piace, fatemi sapere se avete notizie del genere da raccontarmi, così che io possa farci eventualmente un prossimo video. E andate a guardare tutti i contenuti dove abbiamo parlato di digital, di intelligenza artificiale su Psynel, perché il connubio tra intelligenza artificiale e psicologia è davvero fortissimo e interessantissimo. Molto bene, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Lo sapevi che la meditazione può portare nella tua vita una serie lunghissima di benefici scientificamente dimostrati? Beh, ora lo sai. E se vuoi praticarle in modo semplice e costante, ho creato un'app gratuita per te. Puoi trovarla sull'Apple Store o sul Google Play Store, oppure cliccando sul link in descrizione.